Musica E' più facile adeguarsi No, no, la zona 4 è in sella, la zona 5 è fuori sella, d'accordo? La zona 4 è in sella, la zona 5 è fuori sella, sempre 70 federate al minuto Ecco il Mauri fa il Piero, si è seduto e va via Viene Centole, federate al minuto Non vedrete che il grafico si sviluppa E se andate a vedere la miniatura pubblicata questa mattina, la miniatura della live Vedete che è proprio così Arriva anche Marco da Torino Caldiamo bene le gambezze Tra l'altro Marco da Torino Il Piero è nella tua città Spalle rilasciate Ci scendiamo bene, bene Sì, Marianna Un po' country è mia Tra l'altro devo fare la richiesta ufficiale all'Anna Anna mi fai un test stop a 140 bpm Ed ecco il Piero da Torino che ci scrive In chat Allora Max dice Quindi non serve chiudere nel momento in cui ci alziamo in piedi Serve In verità serve Perché per passare da una zona 4 bassa Quindi da un 80% A una zona 5 Comunque non è sufficiente alzarsi in piedi Bisogna anche chiudere No no, non a 100% eh 140% Anna Palle rilassate E le pedalate pian piano diminuiscono Diventano 90 al minuto Aggiungiamo un briciolo di resistenza Pasa poca Manuela sei comoda? Non credo che il manubrio si possa avvicinare Mauri ha voglia di dare un'occhiata Se può avvicinare il manubrio È perché è così Mantengo, mantengo Il Mauri è il Mauri Piero scrive Marta tu non chiudi lo so Faccio come te Piero Uguale Ancora 3 minuti Se sei più comoda Meglio Calviamoci bene perché poi Non ci sono recuperi Non ci sono recuperi Avete visto? Se avete fatto caso Nessun errore Niente recuperi Nessun errore Quindi Non essendoci Recuperi Bevete Quanto volete Per forza Per forza Il Marco da Torino Vorrebbe la mia Spin bike ad ondolo Da novembre Da novembre Marco da Torino Ok Iniziamo Aggiungere Resistenza E prendere Il ritmo Un minutino Pian piano Arriviamo Alle 70 Pedalate Un minuto Siete pronti Per partire? Quasi Siete pronti Per far fatica? No Donato Siete pronti Siete pronti? Pensavo Siamo nati Per far fatica Anche Anche Ci siamo D'accordo Si chiude Mantengo La velocità Di pedalata Che in verità È 75 Pedalate al minuto Per ora Poi diminuisce Un minuto Nona Quattro Solo un minutino E poi Ci alziamo Porta sulle gambette Porta sulle gambette Ok Chiudo Quaricella Un minuto Zona 5 70 Pedalate al minuto Il piano Il piano A È questo Il piano B Invece Si gioca Tutto Nella zona 4 Con L'80% È l'85% Quindi zona 4 Basta Zona 4 Alta Manuela Indietro Non buttarti In avanti Così Indietro Pensa Di rimanere Col bacino Vicino alla sella 4 3 2 1 Giù Tolgo Torno Zona 4 Ma questa volta Sono 2 minuti Palle rilassate Giunato Ma l'Omar Si ha lasciato l'Omar Si ha lasciato l'Omar No Siamo senza Omar questa sera 86 Bravo Quando 86 Prima Adesso È rotto Si vede che non è l'Omar Mantengo Forza Forza Da casa Chiedono Avete chiuso? Prima Adesso abbiamo aperto un pochetto L'Ale no Ha sempre chiuso Ci siamo quasi 10 secondi 4 3 2 1 Chiudo E Su in piedi 2 minuti Secondo me Secondo me L'Ale DJ Sta pensando che questa sera la musica è bassa Da dentro Ma è bassa veramente Veramente Volete che vi alzi un po' Al termine di questi due minuti Hai bisogno di una mano? Luisa Perché noi abbiamo il maestro Mauri Qui apposta È un po' pigro Forza maestro Mauri Vai aiutare una donzella Il Piero Sarebbe sceso Non appena Entrava Dalla porta Mi chiedo Torgo Torgo un goccio di resistenza Grazie a tutti voi Vado via Vado a alzare un goccio Poco poco La musica per l'Ale DJ Così Ed ora Ora I minuti Sono 3 3 in zona 4 3 in zona 5 3 in zona 5 No Perché deve esercitare la professione Amica ha preso il patentino Per nulla Porco forza Grazie maestro Mauri Grazie maestro Mauri Forza forza Ho un minutino ancora anzi un po' meno è ancora bassa no ma Alessandro esprimiti liberamente no ma la posso alzare perché sono andata a fare la prova dell'udito e malgrado in questi anni abbiamo alzato è perfetto ci siamo chiudo su tre minuti zona cinque piano A quattro più piano B forza brava Luisa vai al suo tempo bravissima mantengo il ritmo cambia la canzone ma il ritmo no corso sui pedali rilassate le braccia eventualmente cambiate la posizione un minuto e mezzo si sgancia si sgancia c'è da dire all'olpiero quando torna o il Mauri and we got nothing to lose no one's got a right to own me got it on my own feet for sure we got it on my own feet we got it on my own feet poco poco circa 30 secondi stai facendo fatica state facendo fatica siete sicuri stai facendo fatica stai facendo fatica vediamo il surrogato dell'omar cosa dice 92 va bene scendo tolgo ed ora abbiamo 4 minuti in sella ok sempre il stesso ritmo zona 4 asciugo il sudore e bevo come beba Fatica? No, tanta no Ma non è vero Dite bugie, dite bugie Mi affido alla voce delle nuove Che sono sicere Ma tu non sei nuova Sei una falsa nuova Le nuove sono quelle che anche a casa non fanno nulla La Manuela non mi affido Mi affido alla Federica Federica fatica da 1 a 10 8 Brava Vincio Vincio Benissimo Anche da casa guardate una passeggiata Da 1 a 10 5 4 È un recupero Stanno scrivendo queste cose Abbiamo due chat La faccio dopo una gara di 100 km Così stanno scrivendo Mai fatta una cosa così leggera Addirittura 1 ha scritto zona 1 come il Piero Ecco Federica dicono Vogliamo Federica in chat Siamo quasi Siamo quasi Pronti Gli ultimi secondi E poi si chiude E si sale Quattro minuti La fase centrale Poi la seconda parte dovrebbe essere a specchio La seconda parte doveva essere a specchio Doveva Ma per vostra fortuna Non lo è La seconda parte dovrebbe essere a specchio 3 minuti ancora Mariana scrive Pro memoria Non mangiare la torta prima della live Se la faccio io Sarete bene Non mangiare nemmeno Giunto prima Forza 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 Due minuti ancora Brava Manuela Quando non te la senti Ti siedi tranquilla Benissimo Ricordati che l'obiettivo della prima lezione È finirla In qualsiasi modo Eh Ma quello è scontato Non mangiare la torta prima 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 Non mangiare la torta book Non mangiare la torta poi Sai Forza, forza Non mollo Gli ultimi secondi E stop Tolgo Come va? Togli resistenza, Manuela Ecco Dovevano essere simmetriche e non lo sono Ora abbiamo quattro minuti Quattro minuti Tre minuti E tre minuti E fin qui tutto bene Poi abbiamo due minuti Tre minuti Un minuto Cinque minuti Oh, me and my army We will take you out Oh, we are one step ahead And we will bring you down And if you ever call me For my body Baby Then you will be the one to Say I'm sorry My friend E' venuto così E' a vostro colore E' certo Pensate che fortuna Oh, me and my army We will take you out Oh, we are one step ahead And we will bring you down If you tell me now Oh, me and my army We will take you out Luisa, tutto bene? Oh, we are one step ahead And we will bring you down If you tell me now Mantengo il ritmo Tra l'altro ricordo A chi ha acquistato I corsi di Bike Italia Che domani sera ci rivediamo Questa volta alle sette e quarto Per un'altra passeggiata Dovrete Arrivarvi Link per mail Ci siamo quasi Siete pronti? Sì, sì, sì Manca un minuto e mezzo Dai vostri conti Manca un minuto e mezzo Mi siedo Nel torpetto E Salgo pian piano Giro le spalle Respironi E Giù Ancora una volta Su Tiro, tiro Scendo e incrocio dietro Apro i pettorali E Giù Ora Attaccatevi alla vostra bici Tallone al gluteo Da qui Porto il tallone Sopra il ginocchio opposto E Allungo Su Porto il ginocchio al tetto E da qui Allungo dietro Appoggio il tallone a terra Stretch Tutto il posteriore della gamba E ritorno E ritorno Cambio Qui Tallone al gluteo E Ginocchio Lì Su Porto il ginocchio al petto E la gamba che abbiamo appena strecciato Dietro Appoggio il tallone Ritorno Respiro E fuori sotto e giù Bravi Ritorno 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 Grazie a tutti.